Una stagione estiva partita in ritardo, difficoltosa in alcuni momenti, ma tutto sommato positiva. È quella che fotografa il titolare del noto ristorante Forassiepi di Monte Carlo, Antonio Pirozzi, per quanto riguarda il settore enogastronomico della Piana di Lucca. A mio parere la stagione è partita un po' in ritardo, perché chiaramente è stato un maggio bruttino, però poi al momento che il tempo ci ha dato ragione il lavoro c'è stato, sia come afflusso, come qualità di lavoro, non mi posso lamentare. Parlo anche con tanti colleghi dove mi misuro, gente importante sul territorio, ma anche colleghi che hanno attività più semplici, sono tutti abbastanza contenti. I punti dolenti però purtroppo non mancano nel settore, a cominciare dalle difficoltà nel reperimento di personale qualificato, per non parlare poi dei rincari sulle materie prime. Quest'anno il problema grosso non è tanto gli ospiti, magari una qualità, alcuni mi dicono, soprattutto nel borgo, di una qualità che spende un pochino meno, beve meno, però per il personale, non da lungo, ci siamo arrivati anche noi quest'anno, se non vuole fare un servizio di qualità, come abbiamo sempre fatto, è puntare al meglio e ci siamo dovuti accontentare di fare anche 10 persone meno a sera, anche 20 in alcuni momenti, perché la reperibilità di persone, soprattutto in sala, io con la cucina sono sempre abbastanza, non dico, forte, cioè come il numero riesco ancora a essere di buon livello, alla sala abbiamo avuto più sofferenze. Mentre un'altra analisi è quella di essere, non per pochi, come ho sempre fatto, i costi delle materie prime, i costi di energia, ci stanno pressando in maniera notevole, quindi a rendere quasi insostenibile, se uno non sa fare bene il suo lavoro, le attività. Grazie.